Covid-19 in Sicilia è impennata di contagi e boom di guariti, zero decessi. A Siracusa svettono i nuovi casi. Sono 1.477 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.327 tamponi processati. Ieri i positivi erano 472. Il tasso di positività è al 12% in aumento rispetto all'8,4% di ieri. La regione è al sesto posto per contagi, gli attuali positivi sono 21.996 con una diminuzione di 17.257 casi. Boom di nuovi guariti 18.734 con zero decessi con il numero totale delle vittime che rimane a 12.180. Nell'ambito ospedaliero i ricoverati sono 223, 4 in meno di ieri. In terapia intensiva sono 16, uno in più rispetto al giorno precedente. Sul fronte dei contagi registriamo a livello provinciale Palermo 359, Catania 313, Messina 260, Siracusa 208, Trapani 102, 184, Ragusa 71, Caltanissetta 61, Enna 19. Grazie. 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 Grazie.